bellissimo un modello veramente eccezionale uno dei più grossi come potenza e peso che abbiamo oggi qui a valle gaffano ripeto gianni artioli bambini per carità modello è molto pesante fortunatamente oggi c'è una giornata splendida dal punto di vista del vento cioè non ce n'è e quindi i modelli non subiscono nessuna spinta nessuna variazione di assetto è un modello che può volare lento può volare veloce viene utilizzato dalla pattuglia acrobatica per le loro acrobazie questo è un passaggio basso lento guardate che meraviglia anche il realismo di volo il nostro amico florio bressano è prima volta che partecipa qui a valle gaffaro ma ha già detto che tornerà perché mi piace il posto mi piace la proposta mi ricordo che abbiamo come dicevo prima la scuola di modellismo la scuola di pilotaggio per chi volesse provare sull'angolo alto destro della nostra pista ecco vedete il fumogeno bellissimo un applauso perché se lo merita veramente se lo meritano tutti dal modello da 100 euro a questo genere di modelli però tutti sono meritevoli di un applauso questo bellissimo passaggio a basso col fumogeno l'amico florio bressan padova con il suo mb 339 atterraggio perfetto complimenti complimenti florio